Iiii Allora abbiamo finito Darksiders E passiamo subito a qualcosa di nuovo Mi hanno chiesto in 20 trilioni Ma Sleeping Dogs ci sarà o non ci sarà? Beh certo che ci sarà Come non potevo provare una cinesata simile? Come non potevo provare un Ta, ce si, han you? Vediamo subito le opzioni grafiche L'audio l'ho abbassato una stisa Ah si, credo che sia sufficiente Speriamo, altrimenti non si sentirà nulla Resoluzione buonaria E attenzione le opzioni avanzate Finalmente possiamo ritornare All'opzione avanzate Allora le texture in alta definizione Che purtroppo bisogna scaricare Dillici gratuito, meno male Almeno questo, gratis Da scaricare da Steam Ovviamente lo farò dopo Adesso proviamolo così subito a Steam Sense of Synch Densità scenario Densità motion blur di qualità Occlusione ambientale Filtro ombre Resoluzione ombre Eccetera Insomma Un pochino più di roba È la cosa che ci fa godere Poi Contenuto scaricabile Versione ovviamente Retail Però Edizione limitata Che contiene i due DLC Il pacchetto Protezione della polizia Sei uno Swat Sei uno figo E spacchi i culi Con dei fucili d'assalto E con un'auto Zamarre E il pacchetto GSP Un campione di arti marziali Quindi spacchi i culi I pantaloncini Magliette Una fascia Dei vari preservativi E anche Il vibratore di Spongebob Attenzione al pacchetto Geoscos 2 Che credo Che te lo da Perché ho il gioco su Steam Altrimenti no L'abito di Rico Da usare A Don Kong Quindi Da paura E da panico Ma oltre le chiacchiere Procediamo pure Alla nuova partita Inizierà una partita L'autostavaltaggio Ovviamente Startiamo da qua E vai Alla nuova partita Il홍 De Straight Edu, oval Segur Dia Ho Da Da Nh Uni B errors In Ba I that Oh Ka Ho Be Alla preparazione, per me guardare il suo lavoro. Hai chiesto che hai chiesto. È presto. Non mi piacevole. Non mi piacevole. Non mi piacevole, non mi piacevole. Ciò è abbastanza difficile. Hai un'elemento? Si, hai un'elemento? Cosa? 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 Il nostro canale, è stato il canale. Sì, guarda. Non è possibile, ci siamo in più vicino. Poi, non lo so. Guarda, posso prendere 3-4 chiesi a week, se vuoi. Certo. Ma, non è buon' abbastanza? Certo, c'è qualcosa di fatto? Certo, chi è venuto? Voi, non so. Voi, voi. Voi, voi. Voi, voi. Perciò un'altra cosa, no? F***ing hell! Non lo so, non lo so! Let's go, let's go! Ok, aspetta un attimino, eh! Corro, 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 corro! In mezzo alle sacchette di merda! Ci sono! Piego di seguo a passo felbatissimo! Salto! Levatevi dalle palle, signori! Mi faccio scappare! Si salta! Guarda che gesta eroica! Animazione giuste! Vedete di corrovelo! Vedete di corrovelo! Abbiamo una pula alle calcane, però! Entriamo in ogni... Guarda che grande scivolata! Disturbiamo la povera popolazione! Vabbè vabbè! Che schia! Sono davvero... Non lo so! Non lo so! Non lo so! Molto! La scuola! La scuola! La scuola! Oh.. La scuola! La scuola! La scuola! S'è la mola. Stopi, l'ho va andare, l'ho va andare, l'ho va andare. Non lo ho. Chia, no lo vedi. No, no... No, 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 no. Dobbiamo a ieri, non? Nessuna cosa inRA, poi ritmo inPapa. No, non deve volerciare le persone. Ni si che vuole mai ne pensare. Non mi ha detto, ma il tuo parlamento dalle delle cose, potrebbe essere un testo e non e poi diventare un testo Hai capito? Ti fai così male Hai fatto? Hai fatto un' böse? Hai... hai, ma? Let'l'ai messo in secondo settimana, ok? Ok? Why don't you tell me about this? No, come si fai così? C'è Jackie from All Prosperity, man Oh shit... Jackie ma? Non è, è di te, è di te I can't fucking believe it. What are you doing here? When did you get back? Well, wait. Man, you look like shit. Hey, fuck you. You know, 15 years will do that. You know, we're not kids anymore. Whatever, man. Ask anyone. Jackie Ma still looks good. Jackie Ma is still the same old, but good to see you. What the fuck? They finally deport your ass from the United States? It was mutual. Time I came home anyway. Yeah. Lock up. Home sweet home. So what'd they get you on? Nothing that'll stick. Ha. Well, don't let them pin any extra shit on you. Fuckers will try, let me tell you. Once they hear you from old prosperity, it happens all the time. Hey, so you still in touch with any of the guys from there? A few, you know. People kind of go their separate ways, but... You remember Winston? He's moved all the way up to Red Pole in the sun on ye. I've got a couple of things going with him right now, matter of fact. Huh. Red Pole in the sun on ye. Shit. Doll Guys always said he'd be running that neighborhood. Oh, Doll Guys is a Red Pole too. And still a total poke guy. He was the one who got Winston in. They were pretty tight back then, but... Now... Hey, wasn't Doll Guys hanging with your sister? You know, it was a long time ago. Hey, remember when we were kids and you stabbed Doll Guys with a pen? You totally saved my ass that day. Oh, man, I gotta tell Winston that story. You'll fucking love it. Man, Wei fucking Shen in the flesh. I can't believe it. Jackie Ma! Looks like I'm out of here. Hey, Jackie. So look, if you and Winston ever need help with any of that shit you got going on with him... Of course, man. Look me up when you get out. You'll just be like old times. It seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous man, Wei Shen. That is exactly what we want people to think. I trust that my men weren't too rough on you, officer. You might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off, though. I made contact with Jackie Ma. I'm in. Good work. Use him to get close to Winston Chu. Do whatever it takes. Raymond here will be your handler. You'll report everything through him. Our intel suggests that Winston is looking for muscle. You need to find a way to make him trust you. I've done this before. Not in Hong Kong. American gangs, even Asian ones, don't compare to the triads here. The Sun On Yee is the most powerful gang... Look, Raymond. Your name's Raymond, right? Yes. I grew up with these guys. I know who they are, what they are. All the intel reports in the world won't give you that. We want the Red Poles. The lieutenants like Winston. All of them. And most of all, the Dragonhead. Candidly, Wei, previous attempts to get close to him haven't panned out. We don't have much to go on. That's why you're here. I'm hoping that you can bring something more to our investigation. I understand, sir. Look, the sooner I'm on the street, the sooner I can start. Raymond will be in touch. Owen Wei, good luck out there. Respectfully, sir, are you sure about him? He'll be under extreme stress, maybe for a very long time. Now, I'm not sure he has the discipline to hold up. According to the file, he has a history of extreme behavior. Yes, and an astonishing number of convictions. He obviously blames the triads for what happened to his family. It could turn into a vendetta. Raymond, Wei Shen is perfect for this job.